ciao a tutti amici amici benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo svuota la spesa allora oggi è domenica 7 gennaio e io sono appena tornata da fare la spesa domani riparte tutto è l'otto gennaio quindi ci siamo lasciate alle spalle le feste natalizie io in realtà sono rientrata al lavoro già da una settimana però domani rientra karim a scuola tra l'altro lui è stato via qualche giorno col padre per cui è rientrato poco fa proprio adesso sta giocando in camera sua è tornato da poco quindi avevo bisogno di fare un po di rifornimento perché quando torna poi mi piace anche accoglierlo con tutto quello che gli piace in frigo e quindi stamattina ho fatto un giro all'esse lunga vi faccio vedere la spesa dell'esse lunga dove ho acquistato alimentari e un articolo per la casa molto bello secondo me e poi vi faccio vedere qualche acquistino che avevo fatto in settimana da aldi dove ho fatto due giri da aldi e ho acquistato qualcosa di alimentare non vi faccio vedere tutto perché qualcosa è stato consumato e poi sempre degli acquisti per la casa secondo me interessanti allora partiamo subito con l'esse lunga dove ho speso la bellezza di 90 euro perché tutte le volte si va a fare la spesa ragazzi si spende una follia 99 euro e 28 eccolo qui lo scontrino però c'è da dire che ci sono 20 euro di questo articolo per la casa che adesso vi farò vedere quindi 99 euro e 28 all'esse lunga questo è lo scontrino di stamattina allora vi faccio vedere che cosa acquistato allora c'erano delle buonissime offerte secondo me perché fino al 17 gennaio c'è il volantino quindi io questo video penso che lo caricherò in settimana forse su martedì però ancora il volantino è in vigore il volantino attuale perché dovrebbe scadere il 17 gennaio per cui queste offerte secondo me le trovate ancora allora c'era una buonissima offerta della cartigenica ragazzi per cui ne ho approfittato ho preso questi 12 rotolo rotoli lunghissimi della tenderly confezione dice in plastica riciclata tenderly sostiene save the children maxi durata la chilometrica insomma della tenderly costava in offerta era in offerta al 50 per cento per cui 5 euro e 49 12 rotoli di cartigenica mi sembrano abbastanza grossi a un buon prezzo appunto l'appoggio per terra considerando appunto che la cartigenica è arrivata dei prezzi abbastanza alti allora e poi ho preso la calza per la befana per lui per cari ma anche se la befana ormai è passata lui voleva la calza per la befana suo papà aveva provato a cercargliela ci siamo un po ridotti all'ultimo momento lui non l'aveva chiesta poi la chiesta all'ultimo momento quando ormai non si trovava più ormai chiaramente mio figlio ha 11 anni non crede più a babbo natale la befana quindi sa che non esiste la befana e non esiste babbo natale però voleva lo stesso la calza della befana fortunatamente all'esse lunga evidentemente c'era questo stand con queste calze della team kinder che ancora non avevano smantellato e quindi gliel'ho presa lo vuole più caldo per i dolci che ci sono all'interno questa l'ho pagata 6 euro e 99 ecco quindi diciamo vabbè sì 98 99 euro però ci sono un po di cose costosine allora andiamo con gli alimentari avevo completamente finito le mie mele preferite in assoluto della vita queste sono le ambrosia questo è più o meno un chilo e questo un po di più di un chilo e questa confezione da sei l'ho pagata 3 euro e 32 sono un po cari c'erano le cansi in offerta ma ragazzi a me piacciono queste devo mangiare una mela che non mi soddisfa preferisco spendere un po di più però mangiare una mela che mi soddisfa quando periodicamente l'S lunga le mette in offerta faccio la scorta però le avevo finite per cui le ho prese giusto 6 per andarci avanti questa settimana poi vediamo se le rimetto in offerta poi il mio latte non posso stare senza latte questo qui dell'hd senza lattosio rigorosamente fresco questo costa 1,99 1,98 devo dire che l'S lunga non ha mai aumentato il prezzo poi mi sono ripresa questo kefir che fir dell'activia al gusto mango purtroppo non era in offerta ma è buonissimo mi piace da morire un euro e 49 questo me lo porto magari al lavoro per i miei spezza fame eccetera poi diciamo che non è una spesa in cui ho comprato tutto di tutto proprio completissima perché per esempio manca la carne il pesce però fortunatamente di quelle cose lì le avevo in congelatore per cui mi sono concentrata sulle cose che mi mancavano e poi ho appunto preso qualcosina che era in offerta tipo questa è una buonissima offerta il grana padano della ferrari questo è molto buono costava circa due euro in offerta per cui ne ho presi due confezioni perché di queste cari me ne fa fuori in quantità industriale anche io per cui le ho presi poi ho preso un po' di pasta fresca perché eravamo rimasti completamente senza gli ho ripreso questi tortellini al prosciutto di parma della S lunga top con questi questi erano in offerta se non mi ricordo male a circa due ore e 50 non vorrei dire una cavolata perché andavo un po' di fretta perché lo aspettavo dovevo ritornare a casa in tempo per aspettarlo perché stava tornando e poi ho preso anche questi questi ravioli scusate che li tiro fuori dalla confezione questi li avevo comprati anche questi erano in offerta circa due ore e cinquanta devo dire che questa linea della S lunga top è veramente valida scusate sempre questo ciuffo maledetto che mi dà fastidio e questi sono i ravioli con carne di vitello non mi ricordo se li avevo comprato proprio questi l'ultima volta o ravioli di carne normale fatto sa che li ha molto graditi per cui li ho ripresi queste cose qui questi tortellini ravioli mi servono per quelle volte che vado di fretta e non ho molto tempo e appunto quelli in due secondi con un po di sugo al pomodoro un po anche burro si fanno i tortellini con la panna il brodo eccetera poi ho preso questi pomodorini datterini sì questi sono datterini io preferisco datterini devo dire ai ciliegini questi costavano due ore e qualcosa tipo due ore e diciannove poi ho preso per quanto riguarda gli affettati lo spec della sub tirol questo stava circa due ore e venti in offerta e poi ho preso queste due confezioni di prosciutto cotto ferrarini di alta qualità senza glutine senza lattoso e senza proteine quello di una volta bla 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 che era scontato al 30 per cento questa confezione da due costava 5 euro e 49 quindi una buonissima offerta c'era anche il bellentani in offerta a un po meno però ho preferito prendere questo perché secondo me è un po più buono poi cosa ho preso ho preso gli gnocchi questi qui si trovano al banco dell'esse lunga perché erano scontati questi sfarinati buonissimi sembrano quelli freschi fatti a mano mentre gli gnocchi della linea s lunga top da quando hanno cambiato il pack cioè non sono più nel pack a vassoio ma in un pack un po più piccolo come questo secondo me è peggiorata la qualità invece questi sono buonissimi sembrano proprio fatti a mano sono fatti a mano e sono comunque gli occhi freschi di patate quindi infatti dice aspettate qui è perché molti gnocchi sono fatti con gli scarti quindi a me non piacciono infatti qui c'è il 70 per cento di patate cotte al vapore patate in fiocchi farina di grano tenero sale e bla 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 quindi questi sono proprio gli occhi di patate fatti a mano ed era un'offerta appunto al 30 per cento le ho pagati circa 3 euro costano un po di più però ragazzi io preferisco sugli gnocchi su alcune cose sono io non sono tanto esigente io laura non sono tanto esigente sul cibo però su alcune cose sì tipo gli gnocchi queste cose qui non mi va di comprare cose che non mi soddisfano poi mi sono presa questo primo sale al banco cioè nel banco dei freschi questo qui della lo fanno loro lo confezionano loro l'ho pagato 2 euro e 37 tra l'altro visto sono due etti circa tra l'altro visto che lo hanno confezionato oggi per cui è freschissimo poi c'era in offerta il torno consorzio ragazzi e io quando lo trovo in offerta da quando la mia amica ornella ciao mia amica di infanzia mia me l'ha fatto conoscere se lo trovo in offerta lo prendo perché veramente un tonno di qualità eccezionale a rieccomi scusate mi era preso un colpo di tosse perché ancora sono un po intasata con un po di tosse diciamo che riprendiamo il tonno questo qui della consorzio io ho preso la versione all'extravergine di oliva anche se c'è quella anche quella all'olio d'oliva devo dire che quando l'ho da quando l'ho scoperto se lo trovo in offerta sia nella confezione di vetro che in questa è lattina lo prendo perché veramente ottimo nell'insalata insomma si sente il sapore del tonno buono 4,99 scontato al 50% lo prendo rigorosamente in offerta solo perché costa una follia altrimenti per cui non lo prendo poi cosa mi sono presa ho preso il burro porzionato perché mi mancava questo io prendo questo porzionato perché non lo uso spessissimo il burro lo uso quella volta ogni morte di papa e mi va male spesso se lo lascio nel frigo per cui prendo questo porzionato così lo congelo e lo tiro fuori al bisogno poi mi sono presa ragazzi perché siccome l'altra volta avevo preso la torta pasqualina nel banco della gastronomia che è buonissima ragazze solo che un po cara e me l'aveva consigliato tra l'altro il mio collega che è bravissimo su queste cose veramente molto buona la torta pasqualina dell'esse lunga però non l'ho trovata mai l'altra volta l'avevo presa a prezzo intero adesso non l'ho non l'ho ritrovo speravo di ritrova di trovarla in offerta l'avrei ripresa non ho trovato la torta pasqualina in offerta quindi non l'ho presa però c'era quest'altra in offerta e visto che comunque il genere è lo stesso ho detto prendo questa in offerta voglio provarla perché questi prodotti dell'esse lunga pronti sono buoni e questa è la torta con broccoli e pomodoro fatta da loro e c'era il 20 per cento di sconto e l'ho pagata quindi tre euro e quaranta quelle volte così che io non ho voglia di cucinare queste le mangio io più che altro queste cose che non ho voglia di cucinare così mi scaldo un pezzetto di questa torta e e me la mangio io non cucino cioè nel senso non mi va di fare cose troppo a mano perché sapete con una vita piena e non mi va di passare l'ho già detto più di una volta il mio tempo libero a spignattare in casa per cui tra l'altro adesso anche il forno rotto per cui non potrei neanche cucinarli devo ricomprarlo poi mi sono presa queste piadine al kamut queste per me perché tanto carimo ormai non mangia le piadine ormai o meglio le mangiava poi mi fa ogni volta le mangia per un po' poi mi fa tremila storia che ho detto basta basta piadine le togliamo dal menù me le compro solo per me per quella volta che magari lui si mangia tipo i tortellini alla panna io cerco di evitare questi cibi elaborati da quando ho fatto la dieta e quindi insomma se lui mangia i tortellini alla panna o i ravioli con non so i suoi primi tipo gramigna la salsiccia io non le mangio quelle cose lì magari io mi faccio una piadina e ho preso questa al kamut non sono le mie preferite cioè io penso questo che se mi devo mangiare una piadina io voglio mangiarmi la piadina di riccione quella bella spessa purtroppo all'esse lunga devo dire che manca una bella selezione di piadine cioè secondo me sono meglio al conad le piadine anche fresche le fanno belle fresche quelle di riccione belle spesse però ero lì mi sono accontentata non ho voglia di fare altri giri al supermercato ho detto vabbè dai mi prendo queste al kamut che tra l'altro erano quelle da banco in offerta 2 euro e 50 circa le ho pagate e tra l'altro insomma ricco di selenio di fibre senza lievito dai queste sono un pochettino più salutari fonte di fibre che non mi fanno mai male poi ho preso delle lattine che erano in offerta circa 60 centesimi il chino zero il chino 8 è il mio cioè è la mia bibita preferita in assoluto cioè proprio mi piace da morire poi ho preso anche questo cocktail della san pellegrino sempre zero per magari qualche sabato venerdì che vogliamo farci mi voglio fare un aperitivo perché questo qui comunque karim non lo ma non lo beve lui beve o lemon soda o coca cola infatti per lui ho preso due lattine di questa lemon soda della ferrarelle questa qui praticamente era in offerta circa 70 centesimi la lattina che comunque non è poco però è non è in acqua gassata cioè non è una bibita completamente gassata perché in acqua ferrarelle quindi dovrebbe appunto diciamo fare meno male perché è meno gassata cioè quindi è limonata qui dice per la tua sete di piacere in acqua minerale effervescente naturale della ferrarelle eccola qui poi erano in offerta questi peso forma questi passi sostitutivi della peso forma io devo dire che sto sempre di più cercando di eliminare questo genere di alimenti dalla mia dieta però mi servono per quelle volte che vado in palestra e non ho tempo prima di tornare a casa che vengo magari dal lavoro che non ho tempo di tornare a casa per per mangiare e magari me ne mangio uno o barra due per spezzare la fame arrivare poi allungare il pasto di qualche ora e lo avevo quasi finiti li ho trovati in offerta ne ho ancora un po nella credenza però li ho trovati in offerta c'erano un po tutti i gusti tranne il cocco che è il mio preferito quindi ho scelto tra quello che c'era e ho preso questi al caramello salato e le ho pagati 6 e 99 se non mi ricordo male così per un po sono a posto e poi ragazzi mi sono ripresa ho ripreso questa crostata della linea e se lunga top che è buonissima perché l'avevo acquistata sotto natale a prezzo intero che costa molto però veramente molto buona sembra proprio la crostata fatta in casa ecco qualcuno poi verrà qui e dirà ah ma perché non fai le crostate in casa perché non mi va ragazzi cioè voglio dire ognuno ha il suo tempo il suo tempo lo usa come meglio crede per cui io a me non mi va di cucinare per cui io compro questi scusate se c'è una nota polemica in quello che sto dicendo però spesso a volte diciamo non spesso a volte ci sono delle persone che sotto i video commentano un po fuori fanno dei commenti un po fuori luogo su quello che uno deve mangiare su quello che uno non deve mangiare ognuno decide la propria alimentazione come meglio crede e nessuno deve venire a dire a qualcun altro tu ti alimenti male o tu ti alimenti bene poi ognuno può avere le proprie opinioni comunque ma buona educazione tenersele per sé quindi chiusa questa piccola polemica ho preso questa crostata della linea s lunga top ai mirtilli l'altra volta l'avevamo presa alla mora ed è buonissima ragazzi veramente speciale questa crostata ed era in offerta a 6 euro circa mentre invece normalmente costa più di 8 quasi 9 euro costa veramente buona cioè sembra proprio una crostata da forno ma infatti la s lunga ha proprio il suo forno lisenda la pasticceria lisenda no non lo so se quella lisenda però vabbè poi ho ritrovato questo tappeto di vinile credo sì che avevo già acquistato che io che uso in cucina lo avevo acquistato all s lunga si sta un po rovinando per cui me lo sono voluto riprendere eccolo qui ho preso la misura più grande 50 per 200 centimetri è in vinile mi ci trovo molto bene devo dire l'altra volta l'avevo preso in una confezione in una scusate in una fantasia scacchi un po sul marrone sul grigio scusate stavolta l'ho voluto prendere in questa fantasia un pochettino più neutra che richiama comunque un po il grigio io comunque vedete questo ambiente è cucina è un open space ho la cucina in grigio cemento e bianco e poi ho il pavimento comunque un colore caldo cannella anche il tavolo eccetera quindi si dovrebbe sposare bene con la mia cucina devo dire sono ottimi questi tappetti dell'asse lunga cioè che vendono all'asse lunga e sono di questa marca che si chiama velcock giacomini e gambarova via 25 luglio 50 di treviso provincia di treviso una ditta di provincia di treviso e c'erano la versione appunto sia di lunghezza un metro e cinquanta che 200 io ho preso questa grande da 200 l'ho pagata 19 euro e 90 ecco quindi con l'asse lunga ho finito come vedete ho speso 99 euro ma ci sono c'è il tappeto c'è la calza della befana insomma ci sono delle cosine che costano cioè ci sono questi che costano parecchio 7 euro ci sono delle cose che costano un po un po tanto insomma la crostata insomma vabbè quindi ho speso questa cifra poi vi faccio vedere qualche cosina che ho acquistato da aldi di di interessante faccio vedere prima qualcosa di alimentare l'insalata il lattugino 1 euro e 29 questo è della loro linea bio l'ho già preso più di una volta e lo consiglio tra l'altro adesso io non ci andavo quasi mai da alde adesso me l'hanno aperto proprio cioè io ci passo davanti quando esco dal lavoro e torno a casa per cui mi è molto comodo e ci ho fatto dei giri ho trovato in questa settimana ho trovato delle cose veramente interessanti sia per quanto riguarda gli alimentari sia per quanto riguarda gli extra per cui insomma conto di tornarci so che è un supermercato che non c'è in tutta italia però se lo avete fateci un giro perché secondo me si trovano cose interessanti ad esempio la scarola questa stava 1 euro e 69 io non ho mai trovato un prezzo così basso per la scarola anche all'euro spin costa molto di più e quindi l'ho presa poi ho preso dell'affettato perché anche qui gli affettati all'asse lunga costano un po' diciamo adesso io vi ho fatto vedere il prosciutto cotto ma perché l'ho trovato in offerta ma al prezzo intero gli affettati all'asse lunga costano parecchio quindi ho preso questi questi questa provola affettata senza lattosio della loro linea enjoy free senza lattosio questa circa 1 euro e 29 questo spec light che era in offerta circa 1 euro e 69 79 ho detto vabbè voglio provare anche lo spec light vediamo se non varia molto di gusto e poi c'erano questi dessert ragazzi a 1 euro e 30 circa che mi ispiravano tantissimo e ne ho preso uno alla frutto della passione e mango gusto che mi piace tantissimo e uno alla fragola e pistacchio poi c'erano delle mini bavaresi ragazze in confezioni piccolissime da 6 al gusto misto anche lì fragola poi c'erano anche una versione al cioccolato però ragazzi non ho da farvele vedere perché me li sono mangiati e quindi però se li trovate comprate li costavano circa 3 euro e 50 una confezione proprio da 6 di mini bavaresi e erano buonissime poi come dolci ho preso questa torta sbrisolona questa ha una scadenza lunga e perché alla daldi hanno tutta questa linea regione che vai devo dire che sono dei prodotti validi in passato avevo provato grissini panificati varie vari e mi sono piaciuti molto qui dice la sbrisolona è un dolce tipico che risale alla tradizione non si taglia con il coltello ma si spezza con le mani il suo nome deriva da sbrisa da brisa che che significa briciola briciola ricca di mandorle può essere gustata da sola o servita in molti modi a fine pasto bagnata con la grappa abbinata a vini licorosi accompagnata da crema pasticcera al mascarpone con una tazza di tè a colazione a merenda ogni abbinamento ne esalta il sapore buona la torta sbrisolona devo dire sono contenta di averla trovata costava in offerta mi sembra 3 euro e 99 poi ho trovato anche da aldi questi provoloni dolci con origano nella terrina che si trovano anche da lidl nella linea del axe li ho ritrovati anche da loro li ho voluti prendere 2 euro e 49 l'uno si mettono d'accordo sui prezzi e appunto si sono messi d'accordo di venderli a 2 euro e 49 e sono 150 grammi di prodotto comunque carim me li mangia per cui ho fatto un po di scotta di questi ne ho presi altri due ne ho ancora qualcosa in frigo e poi c'erano queste cosine per la casa ragazzi che vi volevo consigliare allora al primo giro che avevo fatto da aldi avevo preso queste tazze ve le faccio vedere così questa tazza questa è una tazza termica per te è molto leggera fatta penso che sia una plastica un materiale particolare che rimane praticamente freddo fuori e diciamo la bevanda che voi mettete si scalda dentro e funziona devo dire cioè rimane proprio fredda mi sono piaciuta perché sono molto leggere poi a me piacciono moltissimo bere il latte il tele bibite nelle tazze trasparenti non mi piacciono le tazze non trasparenti ecco per cui avevo preso queste in una confezione da due pagati 6 e 99 e mi erano piaciuti tantissimo per cui poi sono ritornata e mi sono voluta prendere anche vedete questo è scatolato perché poi sono tornata successivamente mi sono voluta prendere anche questi tre bicchieri per cappuccino la linea è loro è la crofton si chiama qui dice bicchieri termici per cappuccino set da tre mentre per quanto riguarda queste il set era da due e poi ho preso anche il set da due di bicchieri termici per latte macchiato inizialmente avevo preso solamente questo perché dicevo magari voglio provare se è vero che questi bicchieri rimangono veramente freddi fuori quindi il manico ci vuole in realtà rimangono veramente freddi fuori per cui ho detto vanno bene anche senza manico e me li sono voluti prendere c'erano anche i piatti sapete che devo ricomprare un servizio di piatti però erano della tognana erano di colori che non non mi piacevano particolarmente per cui ho lasciato perdere però c'erano un sacco di cose per la casa interessanti tra cui lo scaldaletto simili imetec a 25 euro io quello a volte l'ho comprato nei discount e mi sono sempre trovata bene c'erano varie cose per l'illuminazione varie cose per la cucina per la casa veramente c'era di tutto di più almeno perché io sono andata giovedì che dovrebbe essere il giorno in cui riforniscono un po' tutto e devo dire che c'erano veramente delle delle belle cose quindi tornerò e quindi come ultima cosa vi faccio vedere questa luce notturna led avevo giorni avevo già preso un'altra nel giro nel giro precedente ho preso questa luce notturna led questa qui fa una luce bianco caldo più bianco freddo e l'ho pagata se non mi ricordo male 7 9 o 6 99 o 7 99 e niente ragazzi questo è tutto per quanto riguarda il mio svuota la spesa s lunga o aldi spero di con questo video di avervi fatto un po di compagnia avervi esserci scambiati diciamo qualche consiglio per quanto riguarda la spesa alimentare per la casa che comunque facciamo tutti sentiamoci nei commenti se vi va e nulla e ci vediamo al prossimo video e vi auguro un buon inizio settimana un po rientro al lavoro a tutti voi e nulla alla prossima ciao